buongiorno a tutti benvenuti al nostro consueto trade and coffee del lunedì mattina per analizzare la situazione economica della settimana scorsa con tutte le notizie che abbiamo avuto nel nostro calendario economico e fare una breve panoramica su quella che sarà la settimana corrente e quindi tutte le occasioni che avremo anche di questa settimana prima di iniziare come sempre vi chiedo per cortesia se mi potete dire gli assistenti in linea che è tutto in ordine che mi sentite l'audio che mi sentite tutto tutto quanto insomma perfetto mi dicono di sì quindi sembra che sia tutto ok oggi dovrebbe funzionare tutto perfetto ci troviamo quindi questo lunedì 25 settembre giornata immediatamente successiva alle elezioni generali che ci sono state in germania che come tutti saprete ha leggermente cambiato quello che il governo tedesco senza entrare nel merito di opinioni personali sia meglio o peggio di quello precedente però semplicemente è un panorama diverso e la spd quindi partito di sinistra che formava il governo precedente esce dal governo per mettersi all'opposizione fra l'altro con una diminuzione di voti molto molto sostanziale mentre la Merkel che è rieletta per il quarto mandato e ha in vista anche il record di Helmut Kohl di cinque mandati consecutivi da un punto di vista è un segnale positivo perché comunque è una continuità rispetto alle politiche precedenti la qualcosa da comunque una certa tranquillità anche per gli investitori e dall'altra parte cambia gli equilibri in quanto la politica di Angela Merkel dovrà per forza spostarsi più verso una politica comunque a favore della destra nel senso che comunque sicuramente prenderanno delle iniziative per quanto riguarda le migrazioni per altri per altre politiche concrete però diciamo semplicemente tenere in conto che per adesso il panorama politico è cambiato probabilmente anzi probabilmente no sicuramente dobbiamo anche tenere in conto il momento di pianificare i nostri obiettivi le nostre strategie di trading allora detto ciò possiamo iniziare io mi chiamo Giacomo Buzzani come sempre stiamo iniziando la nostra il nostro trading coffee di questo lunedì mattina come vi dicevo prima prima di iniziare nel merito della sostanza della nostra rappresentazione economica come sempre facciamo il nostro disclaimer avviso su esonero responsabilità nel webinar qualunque parere notizia ricerca analisi prezzo o altro tipo di informazione e forniti sotto forma di commenti generali sul mercato non costituiscono consigli di investimento e sono dati con finalità educative in ambiente demo x trade brokers non si assume responsabilità per nessun tipo di perdita o danno compresi mancati profitti che potrebbero sorgere o dipendere direttamente o indirettamente dall'utilizzo di tali informazioni avvertenza di rischio il tuo capitale è a rischio le perdite possono eccedere il valore dei depositi un breve incipit su quest'ultima frase xtb è il primo broker che mette in moto un programma che si chiama protezione saldo negativo onde per cui con xtb quest'ultimo concetto del trading del fatto che il capitale possa le perdite possano eccedere il valore dei depositi del tuo capitale nel caso di xtb non è una cosa possibile e non è comunque una variabile di poco conto perfetto quindi facendo una breve un breve scurso su quello che è stato il panorama economico della settimana scorsa in particolar modo come diciamo normalmente facciamo in questi casi cerchiamo di concentrarci sul mercato americano quindi quello che abbiamo visto la settimana scorsa del dato più importante è stato la comunicazione di mantenere invariati i tassi di interesse all'1 e 25 per cento da parte del federal open market committee il fmc è comunque sempre un organismo governativo americano per cui i tassi di interesse non sono variati in questo caso quello che si si lascia attrapelare che probabilmente potrà esserci un leggero aumento di tassi nell'ultimo trimestre dell'anno quindi si lascia la porta aperta a questa possibilità quindi il tono cauto adottato dalla banca centrale americana alimenta i dubbi sulla possibilità di un ultimo aumento dei tassi prima della fine dell'anno e sui mercati pesano come abbiamo visto tutti la settimana scorsa le tensioni geopolitiche fra Stati Uniti e Corea del Nord il dollaro iniziava la settimana scorsa recuperando alcuni dati deludenti della settimana precedente sull'economia americana dopodiché si presentava cauto sui dati pubblicati sui tassi di interesse per concludere poi la settimana sopra al 1.195 al di sopra del 1.19 comunque un dato abbastanza abbastanza alto da questo punto di vista che continua a mantenere l'euro come una moneta comunque forte sul dollaro. Questa è una breve sintesi di quelle che sono state le notizie principali della settimana scorsa e in particolar modo ho fatto una presentazione al giro di boa della settimana precedente la settimana scorsa il 20 settembre mercoledì la Fed confermava i tassi come dicevamo prima all'1.25% però segnala una stretta entro l'anno e annuncia una riduzione del suo proprio bilancio a ottobre. Il comitato di politica monetaria della Federal Reserve ha confermato come comunque ci si aspettava il costo del denaro al 1.25% annunciando per ottobre come previsto un piano graduale di riduzione del proprio portafoglio titoli quelli che conosciamo anche come quantitative easing che mette in moto comunque anche la BCE e una guardare la riduzione del proprio portafoglio titoli da 4.200 miliardi di dollari la maggior parte dei quali accumulati in risposta alla crisi finanziaria del 2007-2009. Le principali notizie che vedevamo la settimana scorsa erano comunque lunedì 19 il dollaro in calo mentre i mercati si preparavano al vertice della Fed e lo stesso 19 il dollaro restava in calo dopo i dati USA misti erano altri dati comunque economici che si presentavano comunque sempre sul mercato fra cui anche sul proprio stesso settore immobiliare sempre un settore molto molto sensibile e anche diciamo tra virgolette simbolico dell'economia americana come ben sappiamo dipende molto anche dall'immobiliare il dollaro scende questo ce lo dicevano il 20 riflettori puntati sulla Fed quindi tutti in attesa di questa comunicazione dei tassi che è stato il momento clou della settimana scorsa il dollaro era su contro i rivali dopo la dichiarazione della Fed quindi ne usciva rafforzato il dollaro che dopodiché raggiungeva il massimo da una settimana il 21 quindi il giorno successivo alla comunicazione dei tassi di interesse in attesa di un probabile aumento dei tassi entro fine anno il 22 quindi venerdì dollaro in calo riaffiorano le tensioni geopolitiche come vedevamo poi anche prima mentre il 22 il forex la coppia euro dollaro su alla fine della sessione americana il valore dell'euro e il venerdì è stato più alto rispetto al dollaro americano quindi la coppia euro dollaro si era stabilizzata era scambiata a 1.1957 comunque come vi dicevo prima un dato abbastanza alto da questo punto di vista perfetto adesso continuiamo con una panoramica di questa settimana dove avremo i nostri riflettori puntati per dover per tenere in conto comunque sempre le notizie più importanti che possono poi scontare i mercati e ho fatto una separazione fra america e europa quindi in america questa settimana l'attenzione degli investitori sarà soprattutto per le dichiarazioni della presidente della federal reserve jelen e nelle crescenti aspettative verso un aumento dei tassi a dicembre quindi questa settimana le sue dichiarazioni sono attese alla ricerca di indicazioni sul futuro della politica in questo caso ovviamente della della federal reserve la scorsa settimana la banca centrale statunitense ha lasciato i tassi di interesse variati indicando che ancora in previsione un aumento di tassi a dicembre nella zona euro gli investitori attenderanno inoltre degli interventi del presidente della banca centrale europea mario draghi che questa settimana avrà la sua consueta conferenza stampa alla ricerca di indicazioni sul futuro dell'imponente programma di stimolo in corso nell'area verso le due e un quarto che saranno le dieci e un quarto di mattina del tempo diciamo dell'ora europea dell'ora centrale europea e di venerdì draghi parlerà dell'indipendenza della banca centrale durante una conferenza ospitata anche in questo caso dalla banca d'inchilterra nella zona euro saranno rilasciati i dati preliminari sull'inflazione dopodiché vedremo anche pubblicati i report della settimana di spagna francia italia e germania come vedevamo prima quindi domenica quindi che era ieri questo è un dato che ho inserito eccezionalmente in occasione delle delle elezioni tedesche quindi elezioni federali tedesche che abbiamo commentato precedentemente lunedì alle tre quindi oggi le tre di pomeriggio il discorso del della bce del presidente della bce di mario draghi martedì alle quattro e il dato sulla vendita di nuove abitazioni americane quindi come vedevamo prima sempre un dato sensibile per quanto riguarda un'analisi corretta dell'economia americana mentre alle sei e tre quarti di pomeriggio di martedì avremo il discorso della yellen e della federal reserve sempre questo sempre un discorso molto importante anche questo da tenere in conto per il proprio trading mercoledì alle quattro e mezza di pomeriggio la variazione il consueto dato sulla variazione delle scorte americane sul petrolio greggio che come storicamente abbiamo visto anche questo un dato che viene scontato dal mercato e quindi che influisce sulla sulla quotazione sia del del petrolio vti del west texas che del brent è sempre un dato sensibile giovedì alle due e mezza avremo la pubblicazione del prodotto interno lordo trimestrale del secondo trimestre americano quindi anche questo è un dato estremamente molto sensibile per prendere in considerazione analizzare il futuro dell'economia americana con un occhio anche al passato al presente venerdì alle 9 55 di mattina variazione della disoccupazione in germania alle 11 avremo il dato sull'indice di prezzi a consumo sull'ipc su base annuale del mese di settembre nella zona euro mentre alle quattro e quarto di venerdì come vedevamo prima il discorso del presidente della bce draghi come facciamo di consueto in questi casi sempre in questi trading coffee del lunedì vedremo l'analisi della volatilità del dollaro la volatilità sapete già molto bene che vuol dire comunque quando diciamo un asset che stiamo prendendo in considerazione non ha una tendenza laterale però comunque diciamo a quello che si dice proprio dalla parola stessa una volatilità e quindi che per noi comunque trader vuol dire si traduce in occasione opportunità di investimento e di operazioni rispetto all'euro dollaro la volatilità per giorno vediamo che effettivamente abbiamo una volatilità più diciamo più alta verso la fine del mese tra il 20 il 21 e il 22 probabilmente ecco sono quelli i giorni in cui abbiamo una volatilità più alta e come diciamo sul dollaro mentre rispetto alla volatilità oraria e vediamo che sempre le ore in cui si concentra più l'alta la volatilità più alta come comunque succede di consueto in questo asset è tra le 12 e le 14 di pomeriggio e mezzogiorno diciamo mentre per giorno feriale vediamo che questa settimana rispetto a altri giorni che diciamo la tendenza principale era un picco di volatilità tra martedì e giovedì questa settimana avremo mercoledì giovedì e venerdì i giorni con una più alta volatilità dovuto anche ai dati macroeconomici che vedevamo precedentemente sotto la lente rilascio di utili in questa settimana è abbastanza povera di rilascio utili da parte di titoli azionari di rilevanza che sono quelli che prendiamo sempre in considerazione ovviamente su tutti i mercati azionari abbiamo sempre continuamente nel nostro calendario un rilascio di utili in questa settimana come vi dicevo prima comunque povera di titoli di un certo rilievo per cui abbiamo selezionato il lunedì rilascio utili di carnival una delle aziende del settore turismo più grandi del mondo martedì avremo i rilascio utili di mediaset di micron e di nike mentre giovedì avremo i rilascio utili sempre sulla borsa americana di accenture perfetto prima di concludere mentre comunque vi chiedo anche se avete qualche tipo di domanda di farmelo presente in quanto stiamo per concludere questo webinar una leggera analisi di quest'oggi sul sul dax ovviamente anche diciamo un po per ovvie ragioni perché siamo comunque al giorno successivo delle elezioni tedesche quindi per inquadrare un po la situazione del nostro di uno dei nostri asset preferiti in un certo senso vediamo che il dax ha raggiunto quello che è un canale quindi siamo in questo momento sui 12.000 e 588 punti la borsa tedesca ha aperto oggi con un leggero gap a ribasso come potete vedere rispetto al prezzo di chiusura di domenica sera questa lunedì mattina ha aperto con una quarantina di punti pip di prezzo inferiore rispetto alla chiusura di venerdì per poi questo oggi sembra stia riprendendo leggermente stia richiudendo il gap il gap di apertura chiusura quindi leggermente rialzo sui 12.590 punti e la nostra previsione un po sul dax in questo senso che comunque in ogni caso bisogna sempre tenere sott'occhio quelli che saranno gli sviluppi della politica tedesca in quanto comunque le alleanze che deve stabilire il governo della Merkel in questo momento determineranno anche le politiche che verranno poi messe in moto messe in pratica successivamente sul mercato tedesco e quindi sulla politica generale tedesca però noi facciamo sempre riferimento al mercato e quindi capire in che modo influiranno certe decisioni sui mercati quello che comunque avremo probabilmente nei prossimi giorni sarà un andamento probabilmente laterale con qualche oscillazione però il canale di riferimento che abbiamo in questo momento fra i 12.635 e i 12.565 direi che sarà il prossimo canale da tenere sott'occhio per le variazioni del nostro asset perfetto poi per concludere vi ricordo come sempre la possibilità di aprire conto demo o conto reale con xtb dalla nostra pagina web xtb.com avete tutte le informazioni relative a mercato e anche sui webinar presenti oltre che una parte anche di formazione potete vederla qua sul nostro menu dopodiché per aprire conto molto semplice potete aprire conto demo cliccando su questo bottone mentre conto reale con due passaggi avrete già aperto un conto con xtb potrete iniziare a conoscere il nostro broker che come vi ricordo è un broker presente in più di 15 paesi intorno al mondo con anche quotazione del proprio capitale in borsa conto deposito dei propri clienti di xtb italia e presso l'unicredit banca italia quindi una garanzia molto alta per le vostre operazioni e una trasparenza comunque anche di pratiche rispetto al a tutto quello che mettiamo in moto da xtb vi ricordo infine ringraziandovi per l'assistenza i nostri dati di contatto per cui come vi dicevo prima io sono giacomo buzzoni e mi potete contattare tranquillamente al numero 02899 82442 o per mandare un email anche eventualmente se siete interessati a qualche analisi tecnica o anche alle slide di questo webinar potete scriverci alla mail sales chiocciola xtb punto it se c'è qualche domanda vi prego di farmelo presente mi dicono che è tutto chiaro per adesso quindi se non ci sono altre questioni che mi sembra che non sia questo il caso ci risentiamo lunedì prossimo per il nostro trading coffee mentre vi invito sempre come vi dicevo prima a comunque avere sempre sotto mano i webinar di questa settimana per avere una un aggiornamento continuo su tutte le notizie dell'analisi di mercato benissimo vi auguro una buona giornata a tutti buon trade e a risentirci a presto